Allora, 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 ieri abbiamo visto l'Italia che ha fatto una partitaccia, però abbiamo avuto delle indicazioni tattiche, quindi stamattina mi sono fatto un caffè Ed eccomi qua per parlarvi dell'Italia, visto che ieri poi nel video vi ho detto ma volete che vi porto un video su come giocherà l'Italia agli europei del 2024 Molti di voi mi hanno detto si portalo, 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 che figata portalo, allora ho detto ma sai che c'è, lo porto, ne parliamo, avevo intenzione di farlo e allora eccoci qua Anche perché, ripeto, ieri l'Italia ci ha dato delle indicazioni e credo che di base l'ossatura che abbia scelto Luciano Spalletti sia sempre la medesima Cioè ieri banalmente ho visto un sacco di gente che si divideva tra giocare a 4 e giocare a 3 e meglio giocare a 4 che giocare a 3 Ragazzi, la differenza la fanno sempre gli interpreti perché l'Italia, e lo vedremo anche mediante degli schemi, lo vedremo anche mediante dei sistemi tattici Difende sempre a 5 anche se giochiamo a 4 anche se giochiamo a 3 e costruisce sempre con lo stesso sistema tattico che è una sorta di 3-2-4-1 Anche se giochiamo a 4 anche se giochiamo a 3, l'unica cosa sono gli interpreti nella parte omogenea della partita Quindi è chiaro che poi vadano fatte delle scelte in base a quella cosa lì Ora facciamo una premessa importante, se dovessimo giocare come l'Italia ha giocato ieri ma dovessimo farlo in base ai migliori calciatori che abbiamo a disposizione L'Italia sarebbe questa qua, cioè 3-5-2, questa sarebbe l'Italia che abbiamo visto ieri Questa sarebbe l'Italia che è scesa in campo ieri ma con gli interpreti tutti titolari Quindi Donna Roma in porta, Bastoni e Mancini centrali che sono stati quelli che ieri hanno fatto i titolari Con Buongiorno e con Calafiori pronti a fare i panchinari anche se poi Buongiorno è più da centrale di difesa 3 Mentre Calafiori al posto di Mancini ci sarebbe alla perfezione però Calafiori è più da braccetto di difesa 3 Ecco forse ci sarebbero 3 di questi in una difesa 3 però poi ne parleremo chiaramente andate a guardare l'altra faccia della medaglia Con terzini bassi di Marco sulla sinistra e di Lorenzo sulla destra In panchina Cambiaso e Darmian con Darmian che è un ottimo calciatore che molto probabilmente partirà per l'europeo Perché parte di quel famoso blocco Inter che doveva essere diciamo il titolare della squadra Ma che difficilmente lo sarà ma per il semplice fatto che a Cerbi si è fatto male E dagli spalletti ha dovuto rivedere il posizionamento medio della squadra Giorgini in mediana o Cristante affiancato da Barella o da Frattesi quindi nel doppio mediano stile palladino Che gioca con un mediano di ruolo e con Pissina che non è un mediano ma è un giocatore alla Barella quindi di inserimento E poi Pellegrini sulla tre quarti o Raspadori, Orsolini e Chiesa a fare da esterni della batteria della tre quarti Con anche il Sharawi, con anche Zaccagni e poi davanti Scamacca oppure Riteghi Ecco questa dovrebbe essere l'Italia che seguendo il sistema tattico che ci è stato dato ieri dovrebbe essere la squadra titolare Ora io vi dico che l'Italia non ha mai giocato realmente a 4 anche ieri l'idea era quella di giocare a 3 E' chiaro che se giochi così a 3 non ci puoi giocare perché l'idea di spalletti che poi prende spunto anche da Mancini Ma ci arriviamo è quella di giocare a 4 che diventa 3 e questo sistema qua è un po' complesso E' molto meglio da fare ad esempio con il 4-3-3, non il 4-2-3-1, con il vertice basso Il problema che abbiamo avuto è che per colpa di assenze col vertice basso tu fai tanta fatica ad importi Allora mi viene in mente di dire, quest'Italia fantomatica che gioca a 3 Come mi ha dato idea di poter giocare con Luciano Spalletti? Così, con Donna Rumma in porta, con Buongiorno Centrale Io Buongiorno non lo vedevo nemmeno arruolato, vi dico la verità Credevo che sarebbe rimasto a casa, ma non perché è scarso Ma per il semplice fatto che non lo vedevo, vedevo tutti gli altri Ma è rimasto, e stasera mi fa anche riflettere L'unico, e sottolineo l'unico, difensore centrale di una difesa a 3 Perché con gli infortuni di Acerbi e di Scalvini non abbiamo più centrali di difesa Tutti gli altri sono braccetti da bastoni a mancini passando per Darmian Sottolineo anche la presenza qua di Di Lorenzo da braccetto di destra Perché? Perché regà, parliamoci chiaro Se Di Lorenzo dovesse essere arruolato per una difesa a 3 Molto difficilmente andrebbe a giocare esterno a tutta fascia Anche perché l'esterno a tutta fascia di una difesa a 3 di Spalletti Rischia di diventare un attaccante aggiunto E Di Lorenzo attaccante aggiunto non lo so Cioè lo può fare, non vi nego che non è che non lo sappia fare Però ci tengo anche a ribadire come si parla pur sempre di un giocatore che è prettamente un terzino Tanto che a Napoli gioca a 4 Tanto che quando il Napoli ha giocato con la difesa a 3 con Mazzarri Di Lorenzo ha fatto il braccetto E Mazzocchi gli giocava davanti Ma proprio per un discorso di caratteristiche Banalmente un discorso di caratteristiche che appara tutto Di Marco è cambiato sulle due fasce Giorginho in mediana o Fagioli Anche qua ci arriviamo Barelli frattesi come Mezzali Scamacca davanti a Chiesa o a Pellegrini Che fanno le seconde punte In un 3-5-2 con il mediano Ecco questo già è un po' più reale Ora bisogna far capire una cosa Nel sistema tattico di Luciano Spalletti E ve lo faccio vedere facendovi vedere l'Italia a 4 Come la metterei in campo io Eccola Con quindi Di Marco e Di Lorenzo E questa secondo me sarebbe l'Italia migliore in assoluto Se io dovessi andare a cercare l'Italia top Direi che è questa qua Cioè con Donnarumma tra i pali Mancini e Bastoni centrali Perché poi tanto diventano dei braccetti Infatti qua non c'è Buongiorno ma c'è Gatti al vice di Bastoni C'è Calafiori vice di Mancini O invertiti fate voi Ora li ho messi un po' così Perché? Perché nell'Italia di Spalletti Che prende l'idea da quella di Mancini Perché per quanto possiamo Chiaramente facciamo i complimenti a Spalletti Ma molto dell'Italia di Mancini giocava così E molto dell'Italia di Mancini giocava così all'europeo che abbiamo vinto Giorginio O Fagioli viene ad abbassarsi sulla linea dei difensori Diventa quindi un centrale di una difesa 3 Giorginio Un po' quello che fa Paredes adesso con la Roma di De Rossi Tra Mancini e Trandica Da quando siamo passati a 4 Con Di Lorenzo e Di Marco che invece vanno a formare i due esterni Che permettono di difendere a 5 con Giorginio Centrale in fase di non possesso E di attaccare invece in molti più uomini in fase di possesso Di Lorenzo tra questi è quello che va ad alzarsi così come Di Marco Mentre Chiesa e Pellegrini si allargano Andando a far subentrare le due mezzali che sono più 2-3 quartisti Quindi Barella e Frattesi E lasciando Scamacca di punta Ecco questo è il piano dell'Italia di Luciano Spalletti Ora ci sono delle problematiche in questa squadra Poi vi faccio vedere anche quella che secondo me sarebbe la squadra Trasformata in campo in fase di possesso, in fase di costruzione Però adesso vi dico quali sono le problematiche Innanzitutto il problema maggiore della Nazionale Italiana Per questo giocare così io È che in generale abbiamo poche alternative Gli infortuni di Acerbi e di Scalvini Hanno costretto secondo me Luciano Spalletti A rivedersi nel giocare a tre Ma perché se tu non hai un'ossatura di difesa a tre E per me la difesa a tre era scritta Cioè la squadra era Donnarumma Acerbi centrale, Darmianna a destra E bastoni a sinistra Con al centro campo Barella, Frattesi e Giorginio E quindi sulle due fasce magari Di Marco e Cambiaso e Bellanova Non so se Di Lorenzo era pronto a fare il quinto sulla fascia E poi chiaramente davanti Chiesa e Scamacca Per me l'Italia era fatta, era pronta Questi due infortuni secondo me Perché poi uno diceva Se a Ruttacervi comunque c'è Scalvini A me Scalvini dà più certezze di buongiorno Ma soprattutto ne avevi almeno due Anche se poi Scalvini magari parte più da largo Però ne avevi almeno due E gli infortuni sono gravi L'assenza di Tonali è grave ragazzi L'assenza di Tonali è veramente grave Perché noi perdiamo un titolare Immaginatevi il nostro centro campo con Tonali, Frattesi e Barella E invece abbiamo Giorginio E con la fascia al braccio per un discorso di anzianità Per quanto secondo voi possa essere Secondaria E in parte lo è anche secondo me Perché quando ha giocato Mi ha sempre fatto cagare L'assenza di Zaniolo banalmente È un'altra assenza importante Perché Zaniolo era un giocatore Che ti dava la possibilità Di giocare a tre davanti Di giocare con i due trequartisti alla punta Di giocare con le due punte Di giocare con il trequartista alle due punte Cioè ti dava la possibilità Di essere schierato in tutti e quattro i ruoli Che vi ho appena citato E questa roba qua Dal mio punto di vista È una mancanza importante Anche perché ho dovuto chiamare Vi faccio un esempio Quelli che vedete in formazione sarebbero stati chiamati Comunque sono sacrosanti Da Pellegrini a Chiesa Da Zaccagni a Raspadori Ho più dubbi Ad esempio su Orsolini Che sa fare principalmente L'esterno E che magari fa più fatica A fare il trequartista Ho più dubbi Quindi secondo me è un'altra assenza abbastanza pesante Però la cosa che ci tengo a sottolineare È che l'Italia di Spalletti Da quando Spalletti è arrivato Che giochi a tre o che giochi a quattro Ha sempre difeso a cinque Ha sempre costruito a tre Ora vi faccio vedere l'Italia di Spalletti In fase di costruzione Cioè l'Italia che farei io In fase di costruzione Giocheremmo con Bastoni e Mancini Da Braccetti Giorginio che si abbassa Sulla linea dei difensori E che fa il centrale Di Marco e Di Lorenzo Che si alzano E poi Frattesi e Barella Che fanno i trequartisti Con Pellegrini e con Chiesa A allargarsi da ali E con Scamacca A fare la punta Sarebbe Ora voi vedete abbastanza in linea Giorginio con Di Lorenzo e Di Marco Ma in realtà sarebbe Un 3-2 larghi 4 Quindi due trequartisti Due esterni E uno 3-2-4-1 Questo è come attacca L'Italia di Spalletti E come probabilmente attaccherà L'Italia di Spalletti Ora L'Italia di Spalletti Secondo me Qualche mancanza Ce l'ha avuta Nel senso che Se fossi stato il Luciano Spalletti Non vi nego Che un paio di calciatori L'avrei portati Uno su tutti Cosa che avevo detto Di non portare Nelle pre-convocazioni E io condividevo L'ipotesi di Spalletti Dovevo lasciarne a casa tre Quindi Saranno questi Questi tre qua Secondo me Potrebbe rimanere a casa Anche E lasciarà qui ma dubito Potrebbe rimanere a casa Anche Vicario Questo sì Non lo so Ma no Vicario no Magari più Provvedel Comunque Poi lo capiremo Fatto sta però Che la cosa fondamentale Che ci tengo a precisare È che Secondo me Con la difesa a tre Quindi con Cerbi centrale Con Darmiana da una parte E con Bastoni dall'altra Potevi fare a meno di Pessina Non ti trattava niente Perché tu in mediana Avevi Giorginio Avevi Fagioli Avevi Ricci Avevi E non avevi l'obbligo Di fare un centrocampo Più 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 ampio Perché se decidi di giocare Non tanto Questa è l'Italia trasformata E non tanto Con questa Italia qua Ma se decidi Di giocare Con questa Anzi Anzi Ad essere più precisi Se decidi di giocare Con il blocco Con il blocco Questo qua Probabilmente Giocare con Due centrocampisti Doppio mediano Quindi con Barella O Frattesi Vicino a Giorginio O Cristante Bah Forse ti faceva più comodo Avere anche un Pessine in mezzo al campo Che gioca proprio lì A Monza Gioca proprio lì E quindi Personalmente L'avrei portato Facendo il cambio Dopo l'infortunio Di Scalvini E di Acerbi Detto questo Detto questo Vi faccio anche vedere La mia Italia a tre E credo che sia Molto complessa L'Italia a tre Per come la farei io Perché Perché Se vogliamo costruire Come costruiamo già adesso Tocca che poi Buongiorno S'allarga E se parti a tre Quando la vai a trasformare Esce fuori una cosa Di questo tipo E cioè Esce fuori Un'Italia che giocherebbe Con Buongiorno Largo a destra Perché si va a allargare E perché Tra Bastoni e Darmian E Darmian Che salirebbe Rispetto a Bastoni Anche se poi anche Bastoni Può andare a Salire però Da braccetto Questa è la fase Questa è la fase di costruzione Con Giorginio Che si abbassa Però già C'hai Buongiorno Largo Ti sei dovuto allargare A tre Allargasse a tre Una cosa che non sta Né in cielo Né in terra Avrete il doppio mediano Anche qua Con Frattesi E con Barella Anche se poi Andrebbero a fare I trequartisti Però banalmente Non puoi giocare Con la difesa a tre Quindi con i quinti Di centrocampo E non pensare Di avere Un terzino A fare l'attaccante Perché Nel sistema tattico Che vi ho presentato prima Ed è questo qua I quelli larghi Sono Pellegrini e Chiesa Quelli centrali Sono Frattesi e Barella Qua invece Ci troviamo Cambiaso In avanti Se qua ci troviamo Di Lorenzo A salire e a scendere Qua ci troviamo Darmian Su Darmian ci posso anche stare Su D'Lorenzo Su Cambiaso Forse un po' meno Che sta facendo Praticamente l'attaccante Ecco perché Secondo me Giocare a tre È molto 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 Più complesso Rispetto che Da questo punto di vista Giocare A A quattro Quindi Sic Qual è l'Italia perfetta Secondo te L'Italia perfetta Secondo me È questa qua Quella che vi ho citato Poco fa Questa qua Che giocherebbe Con Donnarumma in porta Con Mancini o Calafiori Con Bassoni o con Gatti Con Di Marco A sinistra O Cambiaso Con Di Lorenzo a destra O Darmian Forse più Darmian Visto che uno dei due Deve salire Però anche Di Lorenzo Va benissimo Con Giorginio E in panchina Fagioli Con Frattesi E Barella Da Mezzali Cristante E uno tra Fuolo Ruscio e Ricci Con Chiesa e Pellegrini Da tre quartisti Manche Zaccagni Araspadori Con Scamacca davanti O Reteghi Ora voglio Dire anche una cosa E poi abbiamo finito Nell'Italia Di Mancini Avevo letto Un'intervista Qualche settimana fa Bevo l'ultimo goccio di caffè Cioè in realtà Cinque sei mesi fa In cui Leggevo che Insigne Nell'Italia Del Guardiamola trasformata Perché poi è questa La costruzione Ed è questo Quello che ci interessa In quest'Italia qua Avevo letto che Insigne Che faceva Il chiesa della situazione Quindi giocava molto Vicino a me qua Qua Si metteva dove Era la posizione Dell'arbitro Che è una cosa Che in Italia Se non sbaglio Ha portato il papugopio Perché l'arbitro Si mette dove Il giocatore Non penserebbe mai Di mettersi Quindi Facendo così Era sempre tra le linee Davanti all'arbitro Per guardare Sempre L'azione Dalla migliore posizione Come fa l'arbitro E per farsi trovare Quindi sempre Con le viuzze libere Ecco Questo ruolo qua Potrebbe farlo Pellegrini Potrebbe farlo anche chiesa Ma potrebbe farlo Anche pellegrini Perché Alla Roma Quella roba lì Ce l'ha Quella roba lì Ci sta E quindi Personalmente Credo che Pellegrini Abbia quella cosa Di avere la visione Di gioco Il passaggio illuminante Attenzione Perché Più che Zaccagni Più che Raspadori Perché Chiesa è sicuramente Ritolare Con questo Sistema Tattico Qua Pellegrini Potrebbe Tranquillamente Diventare Un po' Quello che è stato In questo caso Insigne Importantissimo Per l'ultimo Europeo Tra l'altro Questo modulo Qua È un modulo Che Ripeto Mancini Aveva fatto Molto spesso Dove Spinazzola Faceva il Di Marco E dove Magari Immobile Veniva incontro Facendolo Scamacca E scendeva Anzi Scamacca Verrà incontro Come faceva Immobile Scendendo A prendersi Di palla Ora Più o meno Probabilmente Giocheremo Così Io Ho fatto Un'analisi Abbastanza Confusionaria Ma perché Non me ne intendo Tantissimo Però Ho voluto Darvi Un'idea Ho visto 8 video Per fare Questo video Ho letto 6 articoli Quindi Mi raccomando Voglio che Insomma Appreziate L'impegno Questo è come Giocherà L'Italia Questo è il mio Punto di vista Fatemi sapere La vostra Iscrivetevi Al canale Io vi ringrazio Tantissimi Mi piace Voce all'alene Come sempre Ci vediamo Un prossimo Video